La vera grande sfida che ha di fronte a sé il nostro continente oggi è ritrovare l'anima dell'Europa, ritrovare il senso profondo del nostro stare insieme. Perché se dobbiamo unire le nostre burocrazie, vi garantisco che a noi italiani basta e avanza la nostra di burocrazia. Sentelev Renzi chiede per più flessibilità e un cambiamento a crescita in un discorso passato che ha ricevuto una ovasione fantastica nel Parlamento europeo su qualsiasi. Noi siamo stati i primi a dire che vogliamo rispettare le regole e non chiediamo di cambiare le regole. Diciamo però che rispetta le regole chi si ricorda che abbiamo firmato tutti insieme i nostri predecessori un patto che si chiama patto di stabilità e di crescita. C'è la stabilità ma c'è anche la crescita e la richiesta di avere la crescita come elemento fondamentale della politica economica europea non la fa un paese, serve all'Europa, non serve all'Italia. Ma non c'è un applauso, alcuni MEPs anche criticano Renzi's speech, chiedendo il ragione italiano italiani a concentrare il Stabilità Stabilità Pacto. Italia ha un'immagine pubblico di più 135% del GDP e un'immagine di 12,6%. In particolare di socialdemocrati e socialisti, adesso devono essere più flexibili, adesso devono uspettare le regole, adesso devono uspettare le regole, adesso devono uspettare le regole, adesso devono uspettare le regole. Le regole che abbiamo aprenduto, noi devono uspettare le regole e prendere le regole. Questo è l'unico scopo di questa crisi, un'immagine pubblico di migliorare. E ho chiesto il Presidente dell'Italia, con un'immagine pubblico di 130% del PIB, dove dovrebbe arrivare l'argento? Sie hanno detto che loro hanno chiesto che loro hanno chiesto di riscita e non vogliono più spettare le regole. Italia ha avuto la presidenza dell'Europa di 1. La prima volta che l'Italia ha letto il Consiglio era in 2003, under Berlusconi's centro-right governo. Sperbitt ihr l'attenzione pubblico di pietrti? È un'immagine pubblico di pietro ecco. Io vi posso arrivare a dire che non c'è l'attrata, che non c'è l'attrata, è un'attrata, ma non c'è l'attrata e non c'è l'attrata. La prima volta è l'attrata priongare.